Cosa distingue il vostro prodotto da quello dei concorrenti? Le caratteristiche dei mattoni terca sono l'alta ingelività e soprattutto sono le caratteristiche di essere irregolari e di avere dei colori fotocromatici molto diversi uno dall'altro. Di fatti partono dal colore bianco fino ad arrivare al colore nero passando a tutte le colorazioni che ci sono intermedie. Cosa avete in cantiere a livello di marketing e comunicazione per il prossimo anno? Noi cerchiamo di avere un buon mix con la pubblicità soprattutto sulle riviste specializzate ma anche sul web che ci dà un ottimo risultato, essere più visibile dal punto di vista del web marketing ma anche sulle riviste specializzate nel settore ma anche visibilità essendo presente nei diversi conveni specializzati sulla sismica, sulla termica e anche sull'acustica. Gli strumenti sono sicuramente molto importanti. Il newsletter che viene indirizzato direttamente al progettista, all'architetto ma anche diversi banner dove il progettista professionista viene collegato direttamente al nostro sito trovando tutte le informazioni ma anche con le schede tecniche che sono soprattutto sui portali. Grazie.